C'è anche non provarci neanche, troppo tardi amico. Polizia, fermo! Questi sono sicuramente gli acuzzi. Un uomo ricercato da tanto tempo è scattato. Non siete qui per bere caffè, ma per domandare scuse. Noi ci assumiamo parte della nostra colpa, ma non sopportiamo lavate di testa. Vede, c'è una guerra in atto e in questa città non si fanno prigionieri. E quanti ne sono? Lei e io, compresi? Sì. 15 milioni. E allora adesso mi dici dove hai il tuo capo? O i stranieri, tornate a casa, signori. Nessuno aiuterà mai un gaijin. Gaijin? Ah sì, uno straniero, un barbara, un forestiero, uno come me, come te. Specie uno come te. Devi provare a lavorare come giapponesi. La banconota sembra perfetta, ma questo non è tenere. Ma una cosa è certa, è per i soldi falsi che si scannano. Siete soltanto osservatori. E non occorrono armi a osservatori. Ho detto tutte le vostre armi. Devo riprenderlo, io non lo lascio a nessuno. Guardate. Dai, torri, lo fatti sotto, vieni qui. Dica da me nascosto santo. Tu non hai nessun peso in questa faccenda. Io sono la soluzione di tutti i suoi problemi. A volte bisogna raccolterla una sfida. Io non sono come te. Ho creduto di poterci diventare. Io sono la soluzione di tutti i suoi problemi. Grazie a tutti